Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, oggi prepariamo insieme una nuova delizia per fare la crema pasticcera senza uova abbiamo bisogno di 260 ml di latte, 60 g di zucchero, 35 g di amido di mais e l'aroma che voi preferite di più io andrò ad utilizzare questa da vaniglia ma potete utilizzare la scorza di un'arancia, di un limone, tutto quello che volete iniziamo subito, prendiamo un pentolino, ci versiamo dentro lo zucchero, l'amido e la vaniglia, quindi l'aroma e mescoliamo a filo aggiungiamo il latte adesso che abbiamo sciolto il tutto bene, buttiamo sul fuoco fino a quando non si ottiene la densità desiderata ecco qua la crema, questa è la densità che io voglio, adesso la vado a mettere in una ciotola e la nostra crema senza uova è pronta io andrò a farcire una torta ma la potete usare per qualsiasi ricetta se il video ti è piaciuto lascia un pollicino in su, un bacione e al prossimo video se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, guarda questo video e pollicino in su ciao